Siete raghi la Mimma, la famosa Mimma, allora gli dedichiamo un bel video, allora Mimma come è andata oggi? Benino, tranquilla, 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 ci siamo visti intorno al quarto, quinto chilometro, ci siamo incrociati, solito saluto, è tutto bene, ok, e altro, siamo pronti per l'isola d'Elba? Sprontissima, la testa c'è, aspetta che ci giriamo di qua, dove c'è la Mimma c'è Nicola, Nicola, allora, poi c'è la Mimma, è la prima gara che faccio, la bronchite, la bronchite, dai, piano piano si riprende, adesso fa la stagione, bello sì, speriamo bene, riprenderci. Adesso comincio le dolomiti, quando sono le dolomiti? Giugno, all'interno dell'Elba. Prima il mare, poi la montagna, non ti puoi mancare niente, come tutti gli altri. Speriamo bene. Bravo Nico, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.